Eh, ah sì, a proposito, ma voi ci siete messi dentro il 2029? Ah, mi ha mandato un sacco di messaggi, Brega. Eh, esatto, ci siete messi dentro il 2029. Ah sì, ah sì, aspetta, cazzo, me ne stavo dimenticando, mi ha mandato un'email Brega. Eh, era con me oggi come ringio. Mi ha mandato un messaggio Brega, un'email. Grazie, Simo, per 19. La dovevo guardare. Mi ha scritto che ci sono state delle esplosioni in università. Ma come? Io c'ero in università oggi. Ci sono state delle esplosioni oggi in università. Una è stata nella sala centrale dietro alla lavagna. A sinistra ci sono delle sedie blu dietro. È un'esplosione nella stanza di Spagnolo. Esplosione di media entità, probabilmente soliti ordigni, frammenti di legno e metallo, solite bruciature. È successo oggi pomeriggio. Pomeriggio. Ma io... No, ragazzi, che peccato. All'università. No, di amico, ma io... E tutti i poveri ragazzi, chi ci pensa a loro? Nessuno pensa ai bambini. Poveri ragazzi, come faranno adesso? Ma com'è entrato, scusami? Spero che non sia definitivamente distrutta con l'università e che non devono sospendere i loro corsi a vita. Guarda, diamo al volo. Non penso che... Sì, vi fa la roba per le streghe e tutto. Arrivo. Blake? Sì. Eh, son McCoy. Hai un binocolo, per caso? Sì. Mi sa che è veramente lui, raga, eh. Cioè, in questa fascia oraria, poco prima dell'esplosione, quel camioncino parcheggiato lì, non è la cosa più sus che possa esserci. Non c'è un punto in cui lo inquadra decentemente. Aspetta, aspetta. Si vede un cazzo. Raga, è il tipo con che abbiamo parlato l'altro giorno. Si vede proprio... Cioè, è strauguale giù. Si vede poco, ma si vede proprio che la sagoma della testa è quella. La conciatura, quegli occhiali. Aspetta. C'è un frame in cui si vede bello grande. Aspetta. Aspetta. Guardate qua. 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 Questo qua. Questo qua. Non è... Giazzo, aspetta. Ok. Vediamo questa cosa qua, va. Vediamo un attimino. Si vede molto poco, eh. Vede molto poco. Molto poco, purtroppo. Molto, molto poco. Troppo lontano, cazzo. Però lo ricorda, eh. Lo ricorda, eh. È difficile comunque vederlo bene a questa distanza, eh. Abbiamo questa foto qua. Vediamo se c'è qualche altro frame buono. Giavanti lo perde lui, sì. Ok, 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 ok. Ok, perfetto. Abbiamo questa roba qua. Questo qua fa... La targa è un veicolo di quelli del centro impieghi. Vediamo un attimino se c'è qualche... Se non fosse così pixelata il video, raga, sarebbe beccato, eh. Ve lo dico. Aspetta, aspetta. Che qui c'è un altro frame bello più frontale. Quest'altro qua. Guarda qua. Questo è ancora più frontale dell'altro. Questo non è male. Stava questo screenshot qua. Minchia, comunque si vede la faccia di quello, eh. Posso dire che si vede che è quello dell'altra volta. Si vede, raga, eh. Cioè, si vede, eh. Si vede di brutto. No? Come sta facendo così cambia qualcosa? Minchia, è piccolissimo. In realtà si vede bene uguale. Aspetta un po'. Vediamo se... Si vede di merda. In realtà è lo stesso frame, raga. È identico, eh. Vediamo dopo se gira. Nel momento in cui gli passa di fianco, però lui leva il coso, purtroppo. Leva il telefono. E poi si vede piccolo. Un po'. Troppo piccolo. Troppo pixel, raga, minchia. Troppi pixel. Troppo pixelata la roba, Cristo Dio. E' stato molto utile il video che ci ha mandato. Le dico la verità. A giudicare da quello che ho visto, potrei sbagliarmi e ho bisogno di analizzare meglio il video. E, diciamo, farlo analizzare anche da chi è pratico, ok? Per prendere frame by frame. Ma mi sembra di riconoscere un volto che ho già visto. Questo non implica che sia per forza collegato a quello che è successo dopo, però... Se le tempistiche sono quelle che lei mi ha descritto, quindi... Ah, sì, indicativamente, diciamo, se non sbaglio c'è anche l'orario riportato sulla registrazione video. Però sì, indicativamente, sicuro prima delle 18, perché alle 18 sono tornato a casa a riposare. E saranno state le 17.30 massimo, non più tardi, ecco. Ok, quindi parliamo più o meno delle 17.00 e nel video si vede... Sì, l'orario c'è, se non sbaglio, comunque... 16.43. 16.43, ok. E abbiamo un orario preciso dell'esplosione della bomba. Grazie, squaglio. Purtroppo sono arrivato alle 18.30 qui e mi hanno informato che era avvenuto il tutto. Dovrei recuperare queste informazioni. Però mi scusi, McCoy, una domanda che la devo fare. Mi può spiegare come è possibile che una persona entri qua dentro e metta delle bombe, visti i controlli che ci sono? C'è qualcuno che ha accesso a questa stanza, o comunque ha accesso all'università di solito, e può entrare? Tolto qualche Marshall per questioni, diciamo, di sicurezza, gli unici che hanno le chiavi sono gli studenti, nemmeno i corsisti, gli studenti stessi. Allora, è fondamentale parlare, visto che questo video risale alle 16.43, ipotizzo che il tutto sia stato piazzato, se questa persona è collegata, più tardi, visto che vedevo che comunque era fermo, stava controllando qualcosa. Bisogna capire chi dei Marshall era qui a pattugliare in quella fascia oraria e se ha fatto entrare qualcuno di particolari. Lei ha i nomi di chi sta pattugliando qui verso quell'ora? No, sarebbe da chiedere a Marshall, ma non so se... Cioè, penso abbia un registro, insomma, di chi viene più sull'università. Sarebbe da chiedere direttamente a loro. Noi non lo teniamo registrato. Grazie Nike per il Brian, grazie mille bro. McCoyle, posso chiedere un'altra cortesia? Mm-hmm. Lei riuscirebbe a girarmi la GoPro anche in una qualità più alta? Perché magari si riesce a capire anche qualcosa meglio. Allora, quella in realtà dovrebbe essere la qualità più alta disponibile. Eh no, perché il servizio dove appunto ha caricato la GoPro comprime comunque. Ah, ok, capisco. Vabbè, poi magari ci mettiamo d'accordo via mail. No, no, riesco a fargli da fornire il file integrale senza metterlo su altri servizi. Avete personale esterno all'università come custodi? O gente che vi porta il cibo? No. Uomini delle polizie? Andiamo direttamente noi a prendere gli ordini che facciamo. Pulizie no, se non occupano i collaboratori interni all'università. Quindi nessun personale esterno all'università? Nessun personale esterno. Tutto il personale è strettamente controllato prima di essere assunto e anche durante ovviamente il servizio. Mm-hmm. Il discorso è che dubito che qualcuno si sia intromesso qui, introdotto qui forzatamente, ok? Magari scassinando. Primo ve ne sareste accorti, immagino, no? E poi comunque c'è controllo e c'è movimento. Non è che si arriva qui, si spacca e si entra velocemente. Quindi qualcuno che è entrato in maniera tranquilla è inosservato. Ma più che altro... Grazie per lo smottere 29. Te ringrazio per lo mio... ...quì sotto perché una volta aperta la porta principale qua si accede in un attimo. Ma per l'aula di spagnolo bisogna passare per due porte che hanno entrambe le chiavi. Ok. Si necessita delle chiavi per essere i ripieni delle aule. O era tutto aperto? O effettivamente è qualcuno che ha le chiavi? Voglio dire che comunque l'università è... Guarda, tutto aperto? Dubito. LQ Marshall, mi scusi. Avete un registro di chi si occupa della pattuglia per avere anche un nome di chi stava qui in quella fascia oraria? Le margherla? Sì. Possiamo rimediarlo? È fondamentale. Ci serve sapere chi era alle porte perché la risposta sta lì. Le chiavi che si trovano al di sopra sono le stesse chiavi della porta centrale oppure sono mazzerini? No, no, sono uguali. Ok, quindi uno che magari ha la chiave per entrare può andare fino a sopra tranquillamente. Può andare fino alle aule, sì. Ok. Perdonatemi, scusate. Rettifico di chi vieni qui. Grazie. Grazie. Grazie.